Da Gomorra a Mafia Capitale, riflettendo su Petrobras, è stato il tema di discussione affrontata all'interno dell'Aula Pessina del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università Federico II di Napoli. Il fenomeno corruttivo nell'esperienza italiana e in quella brasiliana, analogie e differenze verso strategie integrate di contrasto. Il progetto è stato ideato dall'Università Federico II e vede la partecipazione di università come il Sororsola Benincasa, Università di Sao Paolo, Pontificia Università Cattolica di Rio Grande do Sol, Università Federale di Rio de Janeiro, Autorità Anticorruzione, Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Napoli. In Italia c'è sempre chi spera che noi perdiamo, ma a volte vinciamo, come nel caso di Expo. Queste le dichiarazioni del Presidente dell'Autorità Anticorruzione, Raffaele Cantone. Ascoltiamo. Si parla di come si è evoluto il sistema della corruzione in Italia e come si è questo sistema della corruzione, ha anche una serie di caratteristiche analoghe in tanti stati del mondo. Quindi il tentativo è di fare un po' una visione d'insieme fra quello che può apparire in uno stato lontanissimo come il Brasile e in Italia. L'analisi a Napoli, che purtroppo in questo momento credo che a Napoli ci sia un'emergenza maggiore, i morti per strada, che forse rendono meno evidenti anche fenomeni di malaffare che sono di tipo diverso. Oggi purtroppo a Napoli resta il dato obiettivo e rilevante dei morti per strada. Per fortuna, continua Cantone, oggi si sta provvedendo a distruire sempre meglio i ragazzi che rappresentano il nostro futuro. Noi già tante volte abbiamo parlato di corruzione, quindi non è la prima volta. Io ovviamente credo che ci sia la necessità di preparare i ragazzi tenendo presente quelle che sono le esigenze anche del quotidiano e di quello che devono confrontarsi. Ritenevo per esempio in passato che fosse assurdo che non si studiasse il diritto della criminalità organizzata. Questo sta avvenendo ed è un passo in avanti rilevante. Grazie. Grazie.